Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Da Pascoli a Segre alla novella di Verga, oltre a diverse tracce di attualità. Agli esami di maturità tornano dopo due anni le prove scritte, ma con l'incognita Covid sempre dietro l'angolo. Questa mattina siamo stati al liceo Spaventa di Città Sant'Angelo. Vediamo come sono andate le cose nel servizio di Stefano Recanati. 11.000 agli alunni abruzzesi che da oggi inseguono il sogno della maturità. Alle nove l'apertura delle buste con le tracce dell'esame, Pascoli e Verga per quanto riguarda la prima prova, ma non solo perché ci sono anche tanti altri temi di attualità. A Città Sant'Angelo, all'Istituto Spaventa, dove abbiamo incontrato la commissaria dell'esame di Stato, che è la preside Corazzini, che ci ha spiegato quali sono state le emozioni dei ragazzi a tornare in presenza all'esame di Stato dopo due anni e che cosa potrebbe accadere in caso di casi di positività al Covid tra gli alunni? Ho chiesto un po' ai ragazzi, hanno trovato le tracce fattibili dopo il primo impatto, perché capite questi ragazzi vengono da due anni di Covid con tutte le distanze, didattica digitale, integrata, da dei primi due anni a casa, quindi veramente gli ultimi due anni non sono stati molto semplici per noi del settore scolastico, però abbiamo dato ai ragazzi la giusta serenità per affrontare in maniera consapevole, cosciente e piena queste prove che sono sicuramente un ritorno alla normalità. Con la seconda prova il nostro Ministero ha previsto proprio di calibrarla su quella che l'attività effettivamente svolta, quindi la Commissione ha selezionato tre tracce che verranno poi estratte domani, prima di iniziare in sede d'esame e sicuramente anche qui ragazzi c'è stato questo abbreviamento del percorso degli iscritti con due prove anziché tre. E poi ci giochiamo un po' l'orale, ma su questo i ragazzi erano abituati, perché anzi negli anni scorsi l'orale era proprio la prova fondante dell'esame. Devo dire che ho trovato dei ragazzi un po' nervosi, ovviamente ansiosi per tornare sui banchi ad affrontare una prova d'esame, però li abbiamo messi, ripeto, al loro agio e lavorano tutti con serenità. Chiudo, le ha parlato dei casi Covid che comunque sono tanti tra i ragazzi, come recupereranno l'esame di Stato questi ragazzi? Allora, purtroppo questa mattina noi abbiamo due casi Covid nella nostra Commissione, quindi adesso io sto sulla Commissione web indicando che i ragazzi devono sostenere la prova suppletiva, la prova suppletiva è il 6 e il 7 luglio, sperando sempre che i ragazzi siano tornati alla normalità, perché potrebbe anche verificarsi che le eventualità che non siano ancora ritornati alla normalità e siano ancora positivi, nel qual caso dovranno fare la sessione straordinaria. Rinviato a giudizio il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, che era finito nel registro degli indagati nell'inchiesta su un appalto milionario pilotato per l'affidamento della gestione di residenze psichiatriche extraospedaliere. Una vicenda a cui è legato il suicidio avvenuto nel carcere di Vasto l'8 aprile del 2021 di Sabatino Trotta, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL, arrestato quel giorno stesso con l'accusa di corruzione. Il provvedimento di rinvio è stato firmato dal Gup De Rensis. L'iscrizione di Ciamponi sul registro degli indagati all'epoca fu un atto quasi dovuto per permettere agli inquirenti di esaminare il materiale acquisito dalla procura che lo riguardava direttamente. Ciamponi spiegò allora di aver firmato il contratto incriminato solo al termine dell'istruttoria fatta da tutti gli uffici dell'ASL. Il rinvio a giudizio per corruzione nell'esercizio della funzione era stato chiesto dai sostituti procuratori di Pescara Anna Benigni e Luca Sciarretta. Nell'inchiesta due imputati hanno patteggiato due anni di reclusione, pena sospesa. In Prefettura Pescara presentate oggi le iniziative sviluppate nel tavolo delle periferie istituito dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il servizio di Paolo Renzetti. La Prefettura di Pescara riaccende un faro sulle periferie questa mattina presso il Palazzo di Governo in Piazza Italia. Sono state infatti presentate e illustrate le iniziative sviluppate dal tavolo sulle periferie istituito dal Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. In particolare è stato presentato alla stampa il convegno Periferia, luogo fisico o luogo dell'anima in programma domani presso il Polo dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio a Pescara. Presentate unitamente alla tavola rotonda di domani anche le iniziative di socializzazione sportive oltre che proiezioni cinematografiche e concerti di musica moderna che coinvolgeranno diverse aree periferiche del capoluogo adriatico come Rancitelli, Fontanelle, Sandonato e di Corvara in provincia di Pescara, il comune più piccolo del pescarese. In questi mesi abbiamo lavorato con le associazioni innanzitutto rappresentative del territorio, le associazioni coprono il sociale oltre che ovviamente con l'università, con il comune e con le altre istituzioni. L'obiettivo è duplice, da un lato fare un approfondimento culturale sul tema delle periferie oggi, esiste ancora un concetto di periferia rispetto a un centro oppure ci stiamo dirigendo, siamo in presenza di una realtà policentrica e questo sarà il tema grossomodo del convegno accanto a un altro argomento di grande attualità, quello del fenomeno dell'isolamento giovanile col termine giapponese che voi conoscete meglio di me. Al tempo stesso un altro argomento che vogliamo approfondire è il rapporto tra la città, comunque il capoluogo e la provincia. In questa direzione abbiamo coinvolto anche il comune più piccolo della provincia di Pescara che è Corvara dove ci sarà anche un'iniziativa specifica. Oltre a queste attività accademiche mettiamo in campo, grazie alla collaborazione di tutti, a partire come dicevo dall'associazione rappresentativa del territorio, una serie di iniziative su più ambiti sportive con manifestazioni calcistiche alle quali parteciperemo tutti, anche le istituzioni, quindi anche noi come prefettura e ovviamente altre, quindi con un torneo di calcetto. Ci sarà una dimostrazione pugilistica da parte delle fiamme oro, più ci saranno anche iniziative ludiche da parte delle associazioni con letture nei confronti dei giovani oltre che un concerto con musica di Pino Daniero organizzato dal conservatorio. Ci saranno poi delle proiezioni cinematografiche all'aperto che coinvolgeranno alcune aree della città e il comune di Corvara. Il tutto si svolgerà nelle tre giorni 8, 9 e 10 di luglio, mentre invece più in là ci saranno le proiezioni cinematografiche. Queste iniziative verranno realizzate prevalentemente nel quartiere Rancitelli, San Donato e via cadute del servizio Fontanelle, quindi con una prima fase. L'obiettivo qual è? È ribaltare il concetto di periferia come luogo fisico, ma come è anche luogo di isolamento individuale. Manovre speculative, frodi anticoncorrenziali, pratiche scorrette per fronteggiare l'aumento alle stelle dei prezzi alla pompa. La Guardia di Finanza di Pescara prosegue nell'attuazione del piano controlli no stop, effettuando attività di screening a tappeto sul prezzo praticato dai distributori di carburante dislocati su tutto il territorio del pescarese, attualmente interessato dall'intensificazione del traffico veicolare tipica del periodo estivo. È così che gli interventi mirati delle fiamme gialle hanno permesso di rilevare da ultimo a popoli l'omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico delle tariffe praticate al pubblico per l'erogazione dei prodotti energetici da parte di un distributore indipendente per il quale ora la sanzione amministrativa può arrivare fino ad un massimo di 4 mila euro. I continui rincari e l'elevata possibilità che questi spesso siano dovuti a illecite spinte speculative comportano la necessità di un presidio costante del settore del carburante, afferma il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Firmato questa mattina a Teramo un protocollo d'intesa tra la ASL di Teramo e la sezione terramana della AIL, l'associazione per la cura delle leucemie, linfomi e mielomi. I 50 volontari AIL assisteranno oltre 200 pazienti ematologici fornendo loro l'accompagnamento presso le strutture dove poter ricevere le cure. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il reparto di ematologia dell'ASL di Teramo vanta una storia lunga 40 anni e anche una grande tradizione. Oggi, grazie ad un protocollo d'intesa con la sezione terramana dell'AIL, l'associazione per la cura delle leucemie, linfomi e mielomi, è stato introdotto un nuovo importante servizio. Oltre 200 pazienti ematologici saranno assistiti dai volontari AIL che si faranno carico di accompagnarli per ricevere le cure sia all'ospedale Mazzini che fuori provincia. Qual è il servizio più importante che offrite? Il servizio più importante che offriamo è quello di essere un punto di riferimento per il malato. Possiamo andarlo a prendere a casa, portarlo a fare le proprie cure e riportarlo nella sua abitazione. Poi possiamo portarlo a fare delle visite specialistiche dove lui vuole gratuitamente e credo che questa sia la cosa più importante che si possa fare per un malato. Noi abbiamo avuto questo reparto che nel passato è stato uno dei centri più importanti a Teramo con il professor Quaglino dell'Università dell'Aquila. Oggi, grazie alla caprabietà del Dottor Ricciotti, questo reparto è stato mantenuto in vita di operatori che ci hanno veramente creduto e noi dobbiamo fare in modo che questa attività non cesse all'ospedale di Teramo la stiamo valorizzando e quello che viene fatto oggi con l'AIL è la punta dell'iceberg di trovare questa sinergia tra ASL e l'associazione di volontariato per concretizzare l'attività che vogliamo porre in essere. Le cure disponibili presso l'unità di ematologia dell'ASL di Teramo sono in grado oggi di raggiungere risultati straordinari. Sempre più spesso si arriva alla guarigione, come spiega lo storico ematologo Teramano Maglio Ricciotti. 40 anni di ematologia, quali progressi sono stati fatti? L'ematologia, noi veniamo da un'ematologia fatta col microscopio, una volta adesso c'è tutta una tecnologia veramente importante. Adesso possiamo già parlare di guarigioni, cosa che tanti anni fa era solamente neanche pensabile. Una volta noi assistevamo il malato per il breve tempo con terapie molto aggressive e con dei risultati veramente non incoraggianti. Adesso voglio dire che le terapie sono molto più agevoli, sono molto più sostenibili. Si parla anche addirittura di pazienti che vengono a fare una terapia e vanno a casa. Perciò dicevo che io vado via con un rammarico di vedere queste terapie veramente fantastiche e di veramente di soddisfazione per chi le propone e anche per il paziente che ha questa opportunità di guarigione. Sono 1117 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono emersi dall'esame di 1.703 tamponi molecolari e 4.301 test antigenici per un tasso di positività pari al 18,6%. I nuovi casi di positività provengono 268 dalla provincia dell'Aquila, 292 da quella di Chieti, 267 da quella di Pescara, 251 da quella di Teramo, 25 da fuori regione, mentre per 14 sono in corso verifiche circa la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso, un 68enne della provincia dell'Aquila e sale a 3.370. Nelle ultime 24 ore sono 850 dimessi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 19.936 più 266 rispetto a ieri. 109 pazienti più uno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica, 3 più uno rispetto a ieri in terapia intensiva. Da oggi sarà più comodo prenotare il taxi a Pescara grazie alla nuova app della cooperativa Cotape che conta nel capoluogo adriatico 39 tassisti. Vediamo. Oggi viene illustrata un'importante novità che riguarda il Cotape e i tassisti di Pescara, questa app a disposizione dei clienti che faciliterà e agevolerà la prenotazione e la richiesta di un taxi. Assolutamente sì, noi siamo lieti di presentare questa innovazione, anche Pescara fa parte di una piattaforma nazionale di cui fanno parte 98 flotte, tra cui le città maggiori quali Roma, Napoli, Firenze, Milano per fare le più importanti, a seguire. È facilissimo da usare, quindi l'utenza avrà proprio a disposizione un mezzo per chiamare i taxi velocissimo e noi siamo ultra felici di dare questa possibilità alla città di Pescara. Guardi, noi siamo felicissimi, già vediamo Pescara in fermento e le dirò di più, gli stranieri ci hanno sorpreso alla grande perché hanno l'app già scaricata, perché è una app che sta sul mercato da svariato tempo e quindi siamo noi che abbiamo fatto questo passo ad unirci a questa piattaforma. Però le dico che tutti gli stranieri che stanno arrivando e stanno arrivando fortunatamente dopo questo periodo di fermo, hanno già l'app scaricata e la stanno utilizzando a Pescara. Quanti sono per chiudere i tassisti del Cotape che operano nella città di Pescara? Allora, i tassisti della Cotape sono 39, operiamo tutti con svariati tipi di auto, quindi diamo la possibilità al cliente di scegliere tutte le esigenze di cui hanno bisogno, quindi se uno ha l'esigenza di portare un cagnolino, portatori di handicap, macchine con più posti a disposizione e quindi una svariata tipologia di flotta. I bike a disposizione dei cittadini per spostarsi dentro la città di Pescara al via il progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale, vediamo. Pescara segna un altro primato nelle buone pratiche per quel che concerne la micromobilità urbana moderna nel segno della sostenibilità ambientale, un progetto fortemente perseguito dall'amministrazione comunale. Sono infatti 250 le biciclette a pedalata assistita che la società Bit Mobility, a cui l'amministrazione ha affidato il servizio, immetterà sulle strade pescaresi nei prossimi giorni. In questo modo si consolida il progetto di mobilità condivisa che il Comune sta portando avanti ormai da due anni senza alcun costo per l'ente. I nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina in Largo Chiola dinanzi a Palazzo di Città dall'assessore comunale alla mobilità e ai trasporti Luigi Albore Mascia al fianco dei responsabili di sviluppo operativo Byte Mobility. Arrivano per la prima volta nella storia della città anche le biciclette a pedalata assistita con lo stesso concetto dei monopattini elettrici, quello che funziona, cioè il concetto del free floating, cioè dell'uso libero della bicicletta con la possibilità sempre educatamente di poter poi utilizzare la bicicletta e lasciarla in maniera educata, adeguata ed è una raccomandazione che io faccio ai nostri concittadini e a tutti i fruitori delle biciclette elettriche. 250 biciclette contrattualmente per tre anni dal 30 di giugno, sono biciclette di elevata tecnologia che hanno delle prestazioni davvero ragguardevoli, che sono utilizzate nelle più grandi città italiane e anche nelle migliori città europee e che danno la possibilità affiancandosi ai monopattini, agli scooter elettrici, davvero di avere una mobilità alternativa, tecnologica ma soprattutto ecocompatibile. Le biciclette avranno dei punti di lancio in tutta la città, quindi anche nella zona dei colli, proprio perché le biciclette a pedalata assistita consentiranno finalmente anche di infrangere il tabù dell'uso della bicicletta anche nelle zone più alte di Pescara. Un euro allo sblocco e poi pochi centesimi al minuto e con degli abbonamenti che stiamo studiando ancora in questi giorni vantaggiosissimi, in particolare rivolti a studenti e dipendenti. Stiamo ormai ragionando in un'ottica di area vasta per cui sono in contatto sia con l'amministrazione di Francavilla al mare che con l'amministrazione di Montesilvano, proprio per rendere simmetrico l'utilizzo delle biciclette elettriche e tra qualche settimana anche dei monopattini, in modo tale che la corsa non termini al confine con Montesilvano o al confine con Francavilla, ma l'utilizzatore possa anche godere di queste superfici e di questi spazi cittadini che non sono strettamente individuabili con la città di Pescara. Su impulso del COPE, ieri i ragazzi dell'Istituto di Poppa Rozi di Teramo sono stati a Palazzo Brancaccio a Roma per parlare di futuro dell'Europa davanti ad una platea istituzionale di alto profilo. Il servizio. Con grande orgoglio abbiamo ricevuto l'invito da parte del Dipartimento delle politiche europee per partecipare alla conferenza sull'Europa, conclusione degli Stati Generali, un evento nazionale di altissimo livello che si è svolto a Palazzo Brancaccio a Roma. è stata una grande emozione nel vedere i nostri studenti, in particolare quelli della quinta B di accoglienza turistica dell'Istituto Alberghiero di Poppa Rozi a parlare del futuro dell'Europa. Era l'unica scuola selezionata durante gli eventi che si sono tenuti a Teramo grazie al Presidente Filippo Luci che vogliamo ringraziare di cuore per aver dato alla nostra scuola questa opportunità. Poi davvero una grande soddisfazione e un orgoglio per noi come Consorzio ma anche come Regione Abruzzo e come città di Teramo poter dare un contributo di così alta rilevanza istituzionale in un contesto in cui ieri erano presenti a Palazzo Brancaccio il Presidente Tajani, il Ministro degli Esteri di Maio, il Sindaco di Roma, le grandissime personalità e anche in quel caso abbiamo avuto la forza e anche il privilegio di portare una scuola Teramana all'Istituto di Poppa Rozi con tutti gli studenti che si sono esibiti, unica scuola in Italia, davvero siamo soddisfatti perché queste cose aiutano la crescita delle istituzioni e la crescita dei territori, è quello che noi vogliamo e è la missione del Consorzio Punto Europa. In un momento complicato per l'economia due aziende leader di rinnovazione, Walter Tosto e Mark Bass utilizzano la musica per veicolare il proprio messaggio, ovvero quello di andare oltre la crisi. La manifestazione unica nel suo genere sarà giovedì 30 giugno, partirà dal Multiplex Arca di Spoltore e si concluderà a pescare in Piazza Primo Maggio con il concerto di Richard Bona. Vediamo il servizio. Allora la sinergia nasce dalla bellezza delle persone, prima cosa Marco è conosciuto e abbiamo condiviso sicuramente molti aspetti che riguardano l'impresa, ma direi anche la voglia di poter continuare, quindi di continuare a fare impresa in maniera rivoluzionaria come dice lui, è sicuramente un aspetto importante dove un'azienda del territorio, nota come la Mark Bass, un'azienda stimata in tutto il mondo, ha la voglia di legarsi con un'altra azienda come la nostra, la Walter Tosto che è sport in tutto il mondo e quindi un legame che guarda queste due aziende con la voglia di prendere per mano anche altre e avere progetti di sviluppo e dare la voglia ancora di fantasticare che è possibile costruire un qualcosa di nuovo e quello che vedremo come prodotto della MB58 è sicuramente in questa direzione. In passato Marco mi chiese anche la possibilità di immaginare qualche cosa che potesse essere prodotta nelle nostre ufficine, sicuramente quello che facciamo noi è pesante di ferro e quindi non era la cosa giusta, sicuramente la voglia di collaborare c'è e non è scudo che possa essere fatto, ad oggi vedremo qualcosa di totalmente diverso dove anche quello che noi facciamo è partecipe nel progetto, ma indirettamente perché siamo costruttori di componenti per il settore dell'energia, della plastica e dei prodotti chimici in genere. L'occasione di presentare una nuova linea di prodotti che sono nati durante questo periodo che è appena passato, che non è stato dei più facili sicuramente per tutti, durante questo periodo abbiamo iniziato a pensare in modo diverso ad una linea di prodotti rivoluzionaria, presenteremo questa linea di prodotti il 30 giugno, prima di allora nessuno sa niente, infatti abbiamo iniziato già sui nostri social, sulle nostre informative a parlare di questo evento, ma parliamo solo dell'evento, l'evento è importante in quanto appunto sarà l'inizio e l'introduzione nel mercato di questa nuova linea rivoluzionaria di prodotti MarkBase. Grazie a questa occasione, l'aver conosciuto soprattutto Luca Tosto, abbiamo parlato e siccome condividiamo molti aspetti del fare impresa e soprattutto la passione per il territorio, abbiamo iniziato a lavorare insieme per far diventare questo evento, non solo un evento MarkBase, un evento che nello stesso tempo fosse importante per tutta la città di Pescara, per tutta l'Abruzzo e tutto il territorio e devo dire che credo ci stiamo riuscendo. Ed ora siamo nella pagina dello sport, ultime ore per la formalizzazione delle domande di iscrizione al campionato di Serie C, molto difficile la situazione del Teramo, vediamo gli ultimi sviluppi. Gli achini in extremis, davvero nei minuti di recupero, salva l'iscrizione del Teramo. L'ipotesi di lavoro che si era aperta stamattina è diventata la strada anche del diavolo, dopo il pronunciamento della Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso della Federcalcio che avrebbe voluto cancellare la decisione del collegio di garanzia del CONI sull'introduzione dell'indice di liquidità come criterio per iscriversi al campionato. Il diavolo che su quel parametro era impossibilitato e non avrebbe avuto tempo di versare una cifra troppo consistente scommette sulla buona riuscita della presentazione della domanda che poi andrà al vaglio della Covizoc per le verifiche di congruità dei parametri. E dunque, all'ultimo respiro, il diavolo si concede una possibilità da vedere quanto praticabile ma comunque migliore del baratro. La dirigenza ha ultimato la preparazione dei documenti in extremis e come aveva anticipato ieri il Tribunale di Roma è stato Iacchini a dover sopperire a quanto ancora pendente con la fiduzione che ieri era stato terreno di scontro i 350.000 euro che ballavano da giorni portavano anche un peso enorme appresso quelli per i quali il Teramo poteva perdere il calcio professionistico. Ora la palla dall'Abruzzo passa inevitabilmente a Firenze e all'organo di vigilanza delle società professionistiche che esaminate le carte dovrà dare l'ok definitivo. L'intervento di Iacchini si è reso necessario dopo il no allo sblocco di alcuni fondi da parte del Tribunale di Roma che i Ciacci avevano richiesto per poter procedere a inoltrare la domanda di iscrizione. A questo punto non c'erano alternative che non fossero l'intervento in extremis. L'ex presidente attuale socio di minoranza è intervenuto con una somma che andasse a coprire quello che non si è riusciti ad avere attraverso il foro capitolino. Ed ecco che a poche ore dal gong il diavolo sembra avercela fatta. Il rischio era quello del baratro di una mancata iscrizione che in ogni caso ora deve passare al vaglio degli organi competenti. Ma per il momento il Teramo può tirare davvero un sospiro di sollievo. C'è ora l'ufficialità di Alberto Colombo e Daniele Dellicarri con una nota apparsa sul sito della società del Pescara che andiamo a leggere che recita così la delfino Pescara comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra bianca azzurra all'allenatore Alberto Colombo. La presentazione del tecnico alla stampa è prevista per la giornata di domani alle ore 12 presso la sala conferenza dell'EcoTel di Città Sant'Angelo. Nella stessa occasione sarà ufficializzato anche il ritorno in bianca azzurro del direttore sportivo Daniele Dellicarri che illustrerà i primi movimenti bianca azzurri in vista della prossima stagione sportiva. La delfino Pescara ringrazia l'allenatore Luciano Zauri e il DS Luca Matteassi per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune sportive. Parliamo di tennis tutto pronto a Città Sant'Angelo che ospiterà dal 24 al 26 giugno le fasi finali del campionato italiano a squadre Lady 45 di tennis. L'organizzazione è stata affidata al Circolo Tennis Silvi e vedrà partecipare le quattro migliori squadre della categoria. Il servizio. Sarà il Circolo Tennis Silvi presso gli impianti del Marina di Città Sant'Angelo ad ospitare i campionati italiani a squadre Lady 45 di tennis. A sfidarsi nella tre giorni dal 24 al 26 giugno saranno il Circolo Tennis Firenze, il Matchball Firenze, nelle cui fila milita Valentina Padula, neocampionessa europea, campionessa mondiale di doppio e attuale numero 2 al mondo over 45. Le altre due squadre arrivano dal Lazio e sono Oasi di Pace Roma e Canottieri Lazio. Un campionato veterani femminile, ne abbiamo diversi, però è una categoria abbastanza giovane e quindi le atlete a che partecipano sono di grande valore da un punto di vista assoluto, classificate in seconda categoria e che hanno conquistato titoli mondiali e titoli europei. Coni, sempre presente quando si parla di tennis, ma comunque quando si parla di queste manifestazioni? Noi siamo molto felici anche perché è un modo per cercare di avvicinare il più possibile, come dicevo prima, i ragazzi allo sport. Quindi con queste grandi manifestazioni, ovviamente i ragazzi, se si riesce a portarli durante la manifestazione, vengono più invogliati a intraprendere lo sport. Noi abbiamo ottenuto dalla Federazione Italiana Tennis l'onore di organizzare questi campionati italiani a squadre Lady 45, che sono le finali delle quattro squadre più forti d'Italia, che si fideranno sui campi da tennis per giudicarsi il titolo di campione italiano. C'è una manifestazione importante come questa, non può fare che bene al movimento sportivo, al tennis, a noi come associazione ci crea anche orgoglio di organizzare eventi così importanti. E in questo ringraziamo la Federazione Italiana Tennis che ci ha dato questa opportunità e ha creduto in noi. E non è il primo anno perché anche nel 2016 ci affidò l'organizzazione dei Lady 40 e noi ne fumo molto contenti. Sono in qualità di rappresentante del comune di Città Sant'Angelo, essendo il Presidente del Consiglio, non posso che essere onorato di ospitare questa manifestazione così importante, una manifestazione che accoglie i campioni a livello nazionale, dell'età non più diversamente dai ragazzi. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul rinnovato sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e a tutti voi buona serata. Grazie a tutti.